Benvenuti amici, siamo all'indomani del vittorione dell'unica squadra italiana rimasta nelle coppe europee. Parlo naturalmente della Roma che è passata clamorosamente all'Amst da Marena Johan Cruyff in casa della fortissima squadra olandese dell'Ajax. E già ci riduttiamo nel campionato perché ormai non ci si ferma mai, si passa da partite della nazionale, partite del campionato, partite delle coppe senza soluzioni di continuità. Andiamo subito a vedere la classifica della Serie A dopo 29 giornate con l'Inter in vantaggio a 71 punti, 68 le reti fatte, 27 quelle subite, Milan 60, Juventus 59, Atalanta 58. Queste sono le prime quattro che sinceramente mi sembrano anche le squadre migliori. Quindi l'Inter ha segnato 68 gol e ne ha subite 27, il Milan ne ha segnate 14 di meno, 54, subendone 34. La Juve ne ha segnate 58, quindi 10 meno dell'Inter e ne ha subite 26. E' normale che in questo dato, in questi 10-14 gol di differenza realizzati, c'è una chiave di lettura perché chiaramente ho sempre detto nei miei video, se mi seguite, che il calcio è un fatto matematico scientifico, geometrico, non è un fatto astratto, quindi i numeri ci aiutano a capire. L'Inter segna di più, se l'Inter segna di più, che cosa vuol dire? Che ha un attacco più forte probabilmente in questo momento e quindi ottiene anche dei risultati. Questa è la storia. Dopo il ripieno 4 troviamo il Napoli a 56 che ha perso appena il recupero a Torino contro la Juve, un po' sorpresa secondo me. Lazio 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina e Benevento 30, Pezzi a 29. Nonostante un ottimo campionato, lo Spezia è ancora quinto ultimo. Torino 24, altra squadra che ti sta riprendendo bene ma pareggia troppo. Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. Il Crotone direi che è ormai spacciato, si è messa molto male la situazione anche per il Parma. Il Cagliari invece e il Torino hanno ancora delle possibilità. Per quanto riguarda la trentesima di campionato, sabato 10 aprile si gioca Spezia-Crotone che è praticamente uno spareggio. Alle ore 15, partita molto interessante perché il Crotone da quando ha messo in panchina Cersei Cosmi che ha rilevato troppa, Giovannino Stroppa sicuramente ha cambiato atteggiamento e sta fornendo delle prestazioni veramente molto convincenti anche se spesso i risultati non sono arrivati perché purtroppo il livello complessivo tecnico di questa squadra è abbastanza lacunoso per quanto riguarda un campionato di Serie A ma con una grande applicazione, una grande volontà complice anche alcuni episodi favorevoli come per esempio una partita di Napoli dove ci sono stati gli svarioni anche della scuola del Napoli e forte di un Cimi che sta cominciando anche a tirare l'attenzione di altre squadre perché sta tenendo due gol a partita, il Crotone sta venendo veramente cara la pelle e c'è modo e modo di retrocedere, c'è modo e modo di perdere e questo è un modo veramente molto dignitoso. Parma-Milan Parma-Milan è ormai un'ultima spiaggia per il Parma ma il Milan non può perdere ancora punti il Milan mi sembra una squadra in grado di passare al Tardini si gioca alle 18 il 10 aprile quindi domani che è sabato alle 20.45 Udinese-Torino Torino non può assolutamente permettersi di perdere è una partita che sicuramente il risultato di parità ci può stare Inter-Cagliari 12.30 domenica 11 aprile l'orario un po' trabocchetto un po' pericoloso, insidioso l'Inter è lanciata e con la Lula in grande spolvero Lukaku e Lautaro Martinez e questi segnalano un gol a partita tutti e due è chiaro che l'Inter vincerà lo scudetto Verona-Lazio si gioca alle ore 15 l'altra partita di grande interesse anche tattico il Verona è una squadra che è molto brava nelle ripartenze aspetterà la Lazio partita di grande interesse veramente vi consiglio anche di vederla tempo alle ore 15 Juventus-Geno la Juventus deve vincere la Juventus era la mia favorita per la vittoria di questo scudetto l'ho convinto che avrebbe rimontato avevo sottovalutato qualcosa che si è rotto che si è rotto quest'anno nell'ambiente che si è rotto probabilmente dopo la decisione di mandare via Sarri che pure aveva vinto lo scudetto e di prendere Pirlo di prendere Pirlo rischiando moltissimo tra l'altro una scelta che per certi versi è incomprensibile per una squadra che o mai aveva come vero obiettivo quello di vincere la Champions League si è probabilmente sopravvalutata la figura di Pirlo si è immaginato che con questo suo carattere molto particolare sarebbe riuscito a gestire la squadra in un modo molto tra virgolette professionale ma è come se la squadra avesse avuto un calo di tensione dopo l'allontanamento di Sarri e quest'anno la Juventus è giocando un buon campionato ricordiamo che in finale di Coppa Italia è in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli mentre in Coppa Italia sfida l'Atalanta però pesa tantissimo l'eliminazione prematura patita contro il Porto e pesa anche una classifica che è pesante perché la Juventus pur avendo battuto il Napoli nel recupero si trova addirittura a 12 punti dall'Inter che sono difficilmente recuperabili quindi la Juventus quest'anno finirà direi seconda e quindi insomma è un mezzo fallimento per una squadra che veniva da 9 scudetti di fila vinti ma Pirlo ha cercato di fare un gioco troppo semplice cioè lui ha cercato di dire di ragionare così cioè io sono dei giocatori molto forti mi metto con lo schema più arredditizio quello più sicuro il 4-4-2 metto questa difesa collaudata davanti tra Ronaldo e Morata non avranno bisogno di chissà cosa poi a un certo punto rientrerà Di Bala che abbiamo visto tutti contro il Napoli che cosa è capace di fare il giocatore che ha segnato questo secondo gol meraviglioso che si gira in questo fazzoletto veramente in mezzo metro si è girato su se stesso e poi con il suo vellutato sinistro avete visto ha piazzato il pallone sul secondo palo con una semplicità con quella semplicità dei campioni che fanno una cosa difficile la fanno sembrare la cosa più semplice di questo mondo Di Bala è uno di quei giocatori che veramente vincono le partite da sole e che ti fanno veramente alla fine vincere anche i campionati vedete che con il ritorno di Di Bala la Juve avrà molti vantaggi la Juve comunque deve vincere con il Genoa che poi diventa una squadra molto ostica una classifica a 32 punti non eccezionale ma faticherà comunque la Juventus contro il Rosso-Blu e di Ballardini poi c'è Sam Doi a Napoli gran partita questa molto interessante che promette spettacolo si gioca quindi l'11 di aprile domenica alle ore 15 pronostico non semplicissimo perché il Napoli contro la Juve mi ha un po' deluso aspettavo veramente qualche cosa di più il gol subito da Cristiano Ronaldo io lo addebito più alla difesa che ai meriti di Cristiano Ronaldo su questo passaggio raso terra da destra al centro non può essere lasciato Cristiano Ronaldo al centro dell'area libero di calciare di prima con la maniera sono delle cose poco inconcepibili Cristiano Ronaldo che credo che potrà allungare un po' la sua carriera in questo ruolo di centravanti perché Cristiano Ronaldo può giocare in questo ruolo è un giocatore anche alto è alto 1,87 m Cristiano Ronaldo è molto bravo anche in elevazione capace di stare in sospensione in modo importante molto rapido nelle esecuzioni credo che il ruolo di centravanti correndo molto di meno potrà allungare la sua carriera tanta e tale è la sua qualità tecnica poi sempre domenica le ore 18 Roma-Bologna che è diventata una partita anche tra bocchetto se vogliamo per la Roma perché chiaramente la Roma tra sei giorni è impegnata contro l'Ajax nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League quindi tutta l'attenzione tutte le intenzioni di dare tutto vanno alla sfida dell'Olimpico contro l'Ajax in questo contesto considerando tante cose considerando anche infortuni che hanno avuto considerando tante situazioni di nervosismo che ci sono a Trigoria il toto allenatore che toglie il sonno un po' a tutti eccetera giocatori che sanno che non avranno il contratto rinnovato a fine anno e a fine stagione è chiaro che la partita col Bologna che invece è un avversario che va in campo tranquillo ha solo da guadagnare da questa partita il Bologna ormai 34 punti praticamente a dodicesimo dunque è 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 è un dicesimo all'undicettimo posto ma è una squadra che ha un valore tecnico tale per il quale non aveva scelto il problema a salvarsi quindi si va a giocare la sua partita tranquilla purtroppo diciamo che chi scommette chi gioca non deve anche escludere una sorpresa in questa partita perché è chiaro che Fonseca farà anche un turnover riposerà qualche giocatore ora sinceramente quali saranno potrebbero essere i cambi magari giocherà una partita completa via non lo so io mi aspetto qualche non so mi aspetto un calafiori titolare cose di queste situazioni cose di questo genere sicuramente Bologna ma io raggio che era titolare al posto di Dzeko quindi è una partita che non è semplice da inquadrare perché la Roma è chiaro che cerca di rimanere aggrappata ma ormai è settima a 5 punti dalla quinta che è il Napoli a 7 punti soprattutto dal quarto posto che è occupato attualmente dall'Atalanta e quindi mentalmente la squadra purtroppo l'abbiamo visto anche a Reggio Emilia col tastuolo ha un po' mollato da un punto di vista di cercare di qualificarsi per la zona della Champions League che cercherà invece di conquistare in modo clamoroso vincendo l'Europa League perché dovete sapere che secondo le nuove regole se vinci l'Europa League ti qualifichi anche per la Champions League dell'anno successivo addirittura partendo dalla faccia Gironi quindi un affarone proprio anche a livello economico è notizia di oggi restando anche in casa a Roma anche se Daniele De Rossi non fa più parte della Roma ma rimane sempre nel cuore dei tifosi della Roma è la notizia che Daniele De Rossi è stato ricoverato in via precauzionale o forse non troppo precauzionale comunque è stato ricoverato allo Spavanzani è stato allo Spavanzani perché anche lui ha fatto parte della tripola trasferta del triplo impegno con gli azzurri nazionale fa parte ormai dello staff tecnico della nazionale Daniele De Rossi dove c'è stato purtroppo una specie di focolaio di questa maledetta malattia del Covid anche Daniele De Rossi è positivo al Covid ha sostanzialmente una polmonite ma non c'è nulla di cui preoccuparsi troppo sono ragazzi sono uomini forti sono uomini di sport lo stanno curando ma le sue condizioni secondo le notizie che arrivano sono discrete non sono certo preoccupanti purtroppo questa pandemia non accenna veramente a diminuire o ma abbiamo capito tutti che più si va girando più chiaro che questo ragazzo con queste trasferte che sono state fatte in Ucraina dunque dove ha giocato in Lituania e in Bulgaria chiaro che sono diversi giocatori e i membri e i membri dello staff della nazionale che sono risultati positivi al Covid quindi comunque bocca all'uva Daniele De Rossi ma non ho dubbi sul fatto che Daniele potrà rimettersi in sesto quanto prima purtroppo come vedete anche gli atleti non sono immuni da incontrare questo virus di oggi la notizia abbastanza allarmante di 718 decessi nelle ultime 24 ore ce ne sono 258 che si riferiscono a giorni precedenti ma sono comunque numeri che anche fossero 4-500 al giorno sono numeri ancora molto preoccupanti perché io sinceramente quando è partito il Covid quando si è scatenata questa emergenza l'ho vissuta anche bene nel senso che ho detto ma sì ci sarà da tribolare 6 mesi 8 mesi di un anno ma insomma poi troveranno un vaccino e ne usciremo ne usciremo da questa cosa invece devo dire che a un anno e due metri e tre metri credo di distanza da questa emergenza incredibile che sta stravolgendo la nostra vita e che purtroppo alla lunga ci sta anche deprimendo perché ci stiamo chiedendo sempre un po' più tutti quanti in un guscio in una campana di vetro dove ti cerca di stare di usare molto le tecnologie con lo smart walking e tutte queste storie qua quest'anno c'è stato un inverno al nord anche molto rigido particolarmente rigido quindi le persone si sono trovate veramente molto isolate a lavorare magari da casa dal computer oppure a studiare con la DAD in modalità DAD ma il problema è che i mesi passano e se non se ne esce mai soprattutto i più giovani stanno soffrendo tantissimo questa situazione che neanche diciamo un cambio di guida al governo col passaggio da Conta Draghi neanche questo ha manifestato delle soluzioni nuove un modo di approcciarsi più efficace a questo problema perché ci sono stati anche diversi disguidi per quanto riguarda il vaccino con questo AstraZeneca che ormai non vuole fare più nessuno perché ha palesato alcune controindicazioni sono casi isolati ma è chiaro che le persone alla salute ci tengono la salute è il bene più importante quindi uno prima di farsi vaccinare di rischiare gli effetti collaterali dice io aspetto me ne sto tranquillo isolato e aspetto un altro vaccino purtroppo il meccanismo mentale che scatta è questo quindi non si può sbagliare su queste cose non si può fare sui vaccini non si può sbagliare quando ti iniettano un vaccino bisogna essere sicuro di quello che si fa in questo clima di grande certezza purtroppo ci stiamo un po' tutti deprimendo perché io me ne accorgo parlando con le persone che conosco e comincio spesso a sentire anche questo ragionamento ma io comincio a pensare che non se ne uscirà più ma ormai la nostra vita nulla sarà più come prima saremo sempre diffidenti saremo sempre ormai sta passando questo messaggio e quindi io invece penso che il covid è un'epidemia un'epidemia come c'è sempre stata nella storia dell'uomo purtroppo ogni cent'anni ciclicamente c'è un'epidemia ci vorrà tempo ci vorrà molto tempo però ne verremo fuori torneremo a vivere una vita normale torneremo a vedere questi stati pieni perché questi stati vuoti anche ieri guardavo lo stadio di Amsterdam vuoto desolatamente vuoto ormai è rimasta solo la scritta della società sugli spalti anche ieri campeggiava questa enorme scritta Ajax però è uno spettacolo che fa riflettere su come siamo messi è molto deprimente molto deprimente ma poi anche se vogliamo stare sul concreto tutte queste società non stanno continuamente incassando quei soldi che si aspettavano di incassare da tutte queste partite che portano centinaia di miliardi di euro milioni di euro nelle casse societarie mantengono in piedi tutto il sistema perché non è che si può vivere solo di diritti televisivi non tutte le società poi vanno avanti anche nelle coppe eccetera quindi io non so veramente in questi anni le società dilettantistiche le società dei campionati minori come faranno all'andare avanti perché poi voi capite che anche una piccola società che magari vivono anche molto di sponsorizzazioni di sponsor di pubblicità locale degli imprenditori locali ma che quale imprenditore pubblicizza la sua azienda non so per mettere dei tabelloni pubblicitari in uno stadio se poi non ci va nessuno allo stare a vedere la partita cioè capite quanto sta diventando complicata la cosa parlo delle serie minori naturalmente quelle che non vanno in televisione con facilità ma sono tante però sono una realtà importante una spina dorsale del calcio di questo paese quindi i motivi di preoccupazione sono veramente tanti molto probabilmente il calcio nella prossima stagione ha una grande ridimensionata anche negli ingaggi anche nel quello che sono i progetti ma lo stiamo già vedendo quest'anno sono uscite tutte quante le squadre italiane dalle coppe tranne la Roma che comunque poi ha un compito severo un semifinale molto severo contro il Manchester United e quindi non è un caso che al 9 di aprile siamo già da tempo con tutte le squadre italiane eliminate dalle coppe tranne la Roma quindi non è certamente un caso quindi tornando poi alle ricende del campionato dopo questo lungo discorso che ho fatto sul covid sull'emergenza che stiamo vivendo l'ultima poi c'è Fiorentina-Atalanta Fiorentina-Atalanta si gioca domenica 11 alle 20.45 Fiorentina-Atalanta ragazzi vincerà l'Atalanta perché come ero dicendo da tempo l'Atalanta è la squadra che gioca meglio l'Atalanta merita uno scudetto ad onorem uno scudetto simbolico è la squadra che gioca meglio è indietro in classifica per motivi che non trova forse perché ha un gioco molto dispendioso perché l'Inter ha un gioco molto più concreto è a 58 punti a 13 punti dall'Inter ma io continuo a dire che la squadra gioca meglio quindi passerà anche a Firenze e la Fiorentina quest'anno è molto deludente anche se è una classifica veramente molto negativa ma per me l'Atalanta-Atalanta-Atalanta vince vince anche facilmente chiude chiude tutto chiude la 30esima giornata di Serie A Benevento-Sassuolo partita interessante devo dire si gioca lunedì 12 aprile all'ora e 20.45 il posticipo del lunedì Benevento-Sassuolo Benevento a caccia di punti per salvarsi la squadra di Indaghi ha 30 punti insieme alla Fiorentina quindi è fest'ultima ma tutto sommato sta facendo un ottimo campionato il Benevento ma nonostante tutto gli manca quel salto di qualità per stare in una posizione classifica con i 4-5 punti per essere tranquillo invece dovrà lottare fino alla fine il Sassuola ha 40 punti è una società che difficilmente riuscirà ad entrare in costa per la zona Europa Liga ma sta facendo un campionato molto interessante molto tranquillo gioca bene in Sassuola un gioco molto moderno ben guidato dal suo tecnico De Zerbi che è uno dei giovani più promettenti che vedrete che presto lo vedremo su una panchina importante per la sua mentalità offensiva dominante, aggressiva un calcio moderno quello di De Zerbi è anche molto rischioso si prendono sempre un sacco di gol ma le partite del Sassuolo sono le due squadre più divertenti le partite di Sassuolo e Atalanta sono le due squadre più divertenti da vedere perché la stessa Inter che vincerà probabilmente a questo punto lo Scudetto non è che abbia questo gioco eccezionale molto piacevole vive molto sulle giocate di Lukaku in particolare anche di Lautaro che è un ragazzo molto rapido sono due giocatori completamente diversi questi due che si integrano alla perfezione uno un cararmato l'altro rapidissimo quindi dinamismo da una parte e potenza dall'altra si fa valere molto bene anche di testa questa coppia quindi è chiaro che si è creato un mix explosivo Antonio Conte è un allenatore che vuole vincere è un allenatore che si fa dare si fa prendere giocatori forti perché vuole arrivare in fondo sono stati bravi all'Inter nel calcio mercato di Gennaia a prendere un elemento che secondo me sta dando tanto equilibrio alla squadra e parlo del marocchino Akimi che è un giocatore bravo a giocare sia in verticale che anche a tenere lagga la squadra farla giocare in ampiezza è un giocatore molto dinamico e da quando è entrato Akimi io vedo che il centrocampo dell'Inter ha trovato un suo equilibrio perché ha trovato che l'Inter aveva bisogno di una specie di valvola di sfogo cioè a un certo punto il gioco aveva problemi a svilupparsi perché diventava troppo prevedibile la palla lunga per Lukaku che diventava il punto di riferimento ma nello stesso tempo pur facendosi valere grazie alla sua stazza fisica rendeva il gioco troppo ripetitivo troppo prevedibile si è trovato questo motorino sulla fascia destra questa freccia Akimi e quindi in questo modo la squadra ha acquistato sia profondità e sia ampiezza cioè il gioco si è allargato è diventato più equilibrato e l'Inter nelle ultime settimane tra le altre cose sta anche giocando meglio io qualche settimana fa dissi l'Inter è Lukaku dipendente se Lukaku gioca tutte le battite o quasi l'Inter vince lo scudetto però attenzione perché se Lukaku si ferma magari la squalifica o l'infortunio per qualsiasi motivo c'è anche il covid per esempio che gira e ci sono stati dei casi anche nell'Inter allora le cose possono cambiare perché l'Inter soffrirà tantissimo la mancanza soffrirebbe tantissimo l'assenza di Lukaku perché non ha proprio un giocatore con le caratteristiche per sostituirlo quindi invece questo non è successo Lukaku va che non piacere quindi ormai domenica dopo domenica le partite che mancano sono sempre di meno quindi molto probabilmente a questo punto l'Inter riuscirà in un modo o nell'altro ad arrivare dove deve arrivare insomma a vincere questo scudetto dopo nove vittorie consecutive della Juve quindi si romperà probabilmente l'egemonia della Juventus dei nove scudetti vinti dai vari Conte Allegri e Sarri si tratterà di capire e di vedere se la Juventus è alla fine di un ciclo o meno oppure se riuscirà subito a ripartire ma quello che sicuramente è balzato agli occhi quest'anno è che l'Inter non ha avuto una reale concorrente perché il Milan è una squadra che tecnicamente non è una grande squadra è una squadra di grande temperamento di grande dinamismo una squadra di grande volontà però quando cala un po' la condizione atletica quando magari Brahimovic scende un po' di rendimento di condizione oppure addirittura scurita infortunato quando ha dei piccoli problemi continua a combattere ma perde lo smalto e rende anche di meno e purtroppo basta vedere la classifica perché il Milan sembrava lanciata anche per lanciato verso lo scritto poi ha avuto una specie di tracollo perché oggi ha 11 punti dall'Inter ripeto segnando 14 gol in meno e subendone 7 e dunque subendone 7 in più ma sono soprattutto i 14 gol di meno che devono fare riflettere probabilmente mancava qualcosina anche l'innesto di Mandukic non ha funzionato e quindi il Milan soprattutto quando ha perso alla spezia una partita che non è mai dovuto perdere oppure nel tracollo ha avuto nel derby contro l'Inter che l'ha eliminata anche dalla Coppa Italia ha dimostrato di essere una squadra che aveva dei limiti diversamente da quello che poteva sembrare nel giorno d'andata la Juventus quest'anno è sempre stata lontana dal primo posto una stagione a livello di campionato sicuramente non positiva quella dell'undici allenato da Pirlo quindi non ha presentato un avversario quindi l'Inter si è trovata alla lunga come è sceso un po' a livello del Milan a dominare il campionato in sostanza quindi molto probabilmente sarà l'Inter arrivare in porto con lo scudetto ma è stata però una stagione non certo brillante perché l'Inter oltre a non arrivare in fondo in Coppa Italia chiaramente è stato eliminato nella fase a gironi della Champions e non si è qualificato non è rientrato neanche nell'Europa Liga che è arrivato al quarto posto quindi è chiaro che questo non giocare tutte queste partite di Coppa è stato un enorme vantaggio però è anche un qualche cosa che va messo a bilancio a fine stagione perché ci sono state anche tanti tanti incassi per esempio in meno per quanto riguarda i diritti televisivi di tutte le varie partite di Champions League che avrebbe potuto giocare l'Inter quindi la società che è già fortemente indebitata poi alla lunga avrà dei problemi non riuscirà a reggere a questi livelli vedremo che cosa succederà se si deciderà di cedere la società a qualcuno a qualche investitore più diciamo che ha più disponibilità ma è comunque e sembra che l'obiettivo perlomeno vincere lo scudetto quest'anno sarà raggiunto in un campionato che è stato un campionato anche un po' falsato si gioca a porte chiuse ogni tanto ci sono giocatori che si devono fermare per fare la quarantena ci sono state come sapete delle partite rinviate a causa sempre del covid quindi ci sono state anche tante polemiche su quando recuperare queste partite e perché quindi ricorderete naturalmente il famoso caso di Juventus Napoli che è stata più volte rinviata quindi è stato un campionato molto particolare non si è visto un gioco un livello tecnico elevato particolarmente interessante lo abbiamo visto se consideriamo le partite che si sono viste in Champions League nei giorni scorsi dove si sono viste squadre che giocano veramente a un'altra velocità con un'altra intensità e con un'altra mentalità il calcio italiano purtroppo sta rimanendo indietro ed è un paese questo che sta rimanendo indietro in tutti i settori pensate per esempio a quanto siamo indietro a livello di tecnologia informatica per quanto riguarda anche le coperture della banda lagga di internet rapido eccetera ci sono ancora tantissimi posti dove non arriva neanche internet o arriva male quindi pensate a come funziona per esempio Dazone pensate a vedere una partita su Dazone in tanti luoghi non ti riesce a vedere quindi il paese purtroppo non sta vivendo certamente anni facili speriamo che il futuro possa riservarci qualcosa di meglio perché in questo momento siamo ancora in piena emergenza quindi ci consoliamo vedendo un po' di partite di calcio che in qualche modo ci aiutano anche a distrarci e a passare qualche ora in spensieratezza se volete continuare a seguirvi a seguirmi vi invito a mettere anche un like al video e a iscrivervi al canale così per aiutarmi a crescere ancora un saluto a tutti